Un'ingenuità del portiere Pettinali, sfruttata nel migliore dei modi dall'attaccante Luca Orlando, spiana la strada alla Paganese che vince il derby campano con il Neapolis. Così, in un colpo solo, la squadra azzurro-stellata cancella la sconfitta di metà settimana con il Gavorrano e conquista tre punti d'oro in chiave play-off. Allo scadere la rete vittoria del giovane attaccante che in questo modo decide un derby molto atteso che però regala ben poche emozioni e che punisce oltremodo i padroni di casa. Il Neapolis, in crisi di risultati da due mesi, comincia bene la partita provando a mettere in difficoltà gli ospiti. La formazione partenopea si fa vedere con insistenza nell'area avversaria senza però costruire opportunità importanti. La Paganese invece gestisce, prova a rallentare i ritmi cercando con le ripartenze di alleggerire la pressione degli avversari. Di occasioni vere e proprie, però ce ne sono ben poche. Va meglio nella ripresa. La paura di perdere condizione il Neapolis, la Paganese diventa più intraprendente, Fava e Luca Orlando provano con maggiore insistenza a farsi notare. Il Neapolis invece si affida alla voglia di riscatto dell'ex Pasquale Esposito per impensierire Stillo, schierato al posto di Robertiello. Alla fine l'equilibrio regna sovrano ed il pareggio sembra il risultato più giusto. Ed invece, a due minuti dalla fine, ecco l'errore di Pettinari ed il gol di Luca Orlando. La Paganese vince e lancia così la volata playoff.